Fondazione Caripo nasce nel 1991 dalla lunga tradizione della cassa di risparmio delle province lombarde. Oggi è una delle principali istituzioni filantropiche al mondo, anche grazie al suo patrimonio di circa 7 miliardi di euro che le consente di destinare quasi 200 milioni di euro all'anno all'attività di beneficenza. Il ruolo di Fondazione Caripo è quello di corpo intermedio della società, un soggetto tra pubblico e privato con la mission di essere una risorsa per aiutare le istituzioni sociali e civili a servire meglio la comunità. Dalla sua nascita ad oggi, la Fondazione ha sostenuto circa 25 mila progetti sul territorio della Lombardia e delle province di Novara e Verbania, per un importo complessivo di più di 2 miliardi di euro. Fondazione Caripo seleziona circa mille progetti all'anno con rigorosi criteri di valutazione, accountability e trasparenza, soprattutto mediante lo strumento dei bandi, sulla base degli obiettivi strategici dettati dai piani di azione. Sostenere lo sviluppo delle realtà territoriali con soluzioni innovative ai bisogni di cui la pubblica amministrazione o le imprese private non si occupano. Fornire la creazione e la crescita di soggetti sociali autonomi, robusti ed efficienti con capacità e strumenti necessari per farsi carico dei bisogni della comunità. Per promuovere sul territorio la filantropia e la cultura della donazione, ha dato vita nel 1998, prima in Italia, al progetto delle fondazioni comunitarie, oggi presenti nei capoluoghi di provincia della Lombardia, oltre che a Verbania e a Novara. Oltre a erogare contributi ad altri enti no profit, Fondazione Caripo promuove progetti propri in settori di particolare importanza, mettendo a disposizione risorse economiche, ma soprattutto la propria esperienza e competenza, spesso realizzando importanti partnership con altre fondazioni e istituzioni. Quattro sono gli ambiti in cui la fondazione agisce in particolar modo. Fondazione Caripo promuove la sostenibilità come stile di vita. L'obiettivo è diffondere nella società una vera e propria cultura ambientale. In quest'ottica si inseriscono le iniziative per favorire la sostenibilità energetica, soprattutto dei soggetti pubblici e i progetti per tutela delle risorse, come il progetto Rete Biodiversità e per un corretto uso del suolo. La fondazione promuove inoltre iniziative per la valorizzazione delle ricchezze naturali del territorio e per il miglioramento della gestione e della fruizione delle aree protette e dei beni ambientali. Fondazione Caripo opera nel campo dell'arte e cultura per rendere il ricco patrimonio culturale Lombardo un privilegio alla portata di tutti. Nel campo dei beni culturali la fondazione non si limita a interventi di restauro conservativo, ma sostiene piuttosto attività innovative di recupero e valorizzazione dei beni culturali, perché questi diventino un fattore di crescita economica, sociale e culturale del territorio. Per questo Fondazione Caripo ha promosso con oltre 20 milioni di euro il progetto Distretti Culturali, con cui ha dato vita a sei distretti culturali in Lombardia. Il progetto intende creare nuove opportunità di sviluppo culturale ed economico, occupazione e crescita sociale, valorizzando le grandi risorse culturali e paesaggistiche offerte dai territori selezionati. Nel campo delle arti dal vivo, la fondazione promuove la diffusione dell'educazione e della pratica artistica, mirando ad un maggiore coinvolgimento del pubblico, soprattutto dei giovani e delle fasce sociali di solito escluse. La fondazione sostiene la creazione di un ambiente favorevole alla ricerca scientifica e la crescita dei giovani ricercatori. Sviluppo del capitale umano, realizzazioni di reti e partnership in ambito internazionale, miglioramento nella produzione e nella comunicazione scientifica, sono elementi chiave per un miglioramento della ricerca scientifica con benefici per il futuro dell'intera società. In questo campo, la fondazione sta investendo molte risorse anche su progetti propri, come il progetto Ager per la ricerca in campo agroalimentare o su progetti in settori di ricerca avanzati e di frontiera. Per Fondazione Cariplo, sostenere l'innovazione sociale significa occuparsi dei bisogni emergenti o inascoltati, in particolare in ambiti di intervento come la coesione sociale, la tutela dell'infanzia e delle famiglie con disabili, l'inserimento lavorativo, il dialogo interculturale. Nel campo del housing sociale ha fatto nascere una fondazione autonoma, la fondazione housing sociale, per tentare di risolvere il problema abitativo delle fasce più deboli della popolazione non solo costruendo case, ma proponendo soluzioni abitative che integrino servizi necessari per le comunità. Il raggio d'azione di Fondazione Cariplo non si limita alla realtà locale. A livello internazionale, oltre a finanziare organizzazioni no profit, promuove direttamente progetti di cooperazione internazionale per migliorare le condizioni sanitarie, sociali e economiche dei paesi poveri, in un'ottica di sviluppo sostenibile e duraturo. Fondazione Cariplo 20 anni di storia, ma quasi 200 anni di tradizione, per una filantropia moderna a sostegno della società e del territorio. Sussidiarietà, innovazione, impegno. Questi i nostri elementi chiave per dare un futuro alle idee. Sussidiarietà, innovazione, internazionale, 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 internazionale. Grazie a tutti.